Per il discotto, innanzitutto complimenti per la vittoria e soprattutto per il gioco. Un finale in sofferenza ma ci sta perché comunque giocavate contro il Muravera che in quel momento disponeva di tanti attaccanti, più vignati che faceva il centravanti aggiunto. Avete tenuto, quindi sapete giocare e sapete soffrire. No, infatti è stata una mia scelta abbastanza ponderata perché mi mettevano uno contro uno sia Chiesa che Lazzari. Lazzari era la prima partita, l'avevo già visto che stava pagando Dazio e allora ho abbassato Ted e ci siamo in sia cinque. Non lo faccio quasi mai, penso che sia una delle poche volte che ho fatto questa cosa qui, ma l'ho fatta a ragion veduta perché avevo paura della profondità che si potesse concedere a un giocatore come Nurki, che se gli dai quella profondità lui ti può far male. Lo stava facendo. Lo stava facendo. Dunque avevo Lazzari che non stava alla prima partita. Potevo continuare e non so se ci siamo riusciti a fare quei 70 minuti che abbiamo fatto alla grande, però era una scelta ponderata. Non mi sono sbagliato, ci vuole anche un pizzico di fortuna, però penso che non abbiamo rubato nulla e anzi abbiamo fatto vedere che siamo a squadra che gioca un buon calcio. Sicuramente per tutto quello che ti hai fatto nei 70 minuti la vittoria poteva essere anche meritata. Poi nel finale ci sta che loro abbiano spinto, ma sarebbe stato un peccato non portare in porto la vittoria. No, ma infatti io guarda ti dico questo, per me loro sono veramente forti, sono loro e l'anno reso le squadre più forti, ma soprattutto te lo dico perché noi paghiamo Dazio che non abbiamo una grande rosa nelle partite ravvicinate. Questi hanno veramente due squadre, buon per loro e anzi li stimo perché comunque beati loro che possono fare due squadre così. Noi, essendo una squadra che ha più fibre bianche, siamo più brevilini, gente rapida, che comunque nel breve periodo paga Dazio. La mia preoccupazione è per giovedì e domenica perché comunque i ragazzi in una partita danno sempre tanto e non ho tutti questi ricambi. Nuorese e Muravera favorite, poi si vede che il Sol si ha battuto sia l'una che l'altra. Ma non mi cambia di una virgola, sono con i piedi ben piattati a terra. Guarda, ho visto una tua intervista con Marco Piras e le do tanta ragione quando dice che queste sono due squadre con due budget da Serie D che veramente sono le più forti del campionato. Ciò non toglie che è l'orgoglio di affrontarle, di disputare una bella gara con il mio calcio, col calcio che possiamo fare con la mia squadra, mi rende orgoglioso e i ragazzi oggi sono stati fantastici. Hai toccato un punto nelle squadre che potenzialmente potrebbero inserirsi nella lotta per il vertice assoluto, la rosa corta. Perché poi voi giocate adesso un altro turno in frasi settimanale, lì si può pagare. Dopo una grande prestazione ci può essere anche il contraccolpo. Infatti è quello, infatti noi l'abbiamo pagato domenica con l'Arbus pur avendo fatto una partita più che dignitosa e cercando di veramente il nostro calcio. Però purtroppo quando tu giochi domenica, mercoledì e domenica non puoi pretendere che Pulina, che Altea, che De Logu abbiano, tra l'altro c'è fuori anche un giocatore come Alessio Del Rio che comunque è un giocatore lo stesso che ha un grande passo. Questi pagano, non c'è nulla da fare. Dunque ci sarebbero voluti i doppioni di questi per poter riproporre la stessa cosa. La stessa cosa non è. Dovremmo trovare un equilibrio. Io penso che sia sbagliato nei dilettanti soprattutto a livello di eccellenza a fare questi turni frasi settimanali perché veramente avvantaggi solo le squadre che hanno veramente 20 giocatori, 25 tutti allo stesso livello. Comunque Lazzari, buonissimo esordio. Si è dovuto, come era dovuto, spendere l'espulsione per evitare un possibile pareggio. Si è immolato per la causa. L'altro ha fatto anche lui un errore, ha riparato un suo errore. Si, si, si. La verità è questa che lo sapevo che Lazzari andava incontro a 60-70 minuti di brillantezza e poi sarebbe andato in difficoltà. Però purtroppo dovevo fare... L'è andato molto bene. No, si, si. Infatti io penso che la sua gara sia positiva. Vedi, adesso noi perdiamo per giovedì Lazzari e abbiamo fuori merenda. Dunque dovremo di nuovo abbassare un centrocampista, perdere quelle peculiarità di questa squadra che stiamo costruendo e che qualcosina la paghi. Ma dovremmo essere bravi a rimboccarci le maniche e a cercare di fare il nostro campionato che è quello che ci vede insieme a tutte le altre 5-6 inseguire un posto al sole. Perché, credimi, è difficile superare squadre come Nuorese, Muravera in un campionato del genere. Tra l'altro avete riposato come Nuorese e Muravera. Altre magari che sono dietro di voi ancora lo devono fare. Giovedì con chi siete? Giovedì siamo con il Monastricht, che è una squadra fresca, brillante. Ho già vinto 4-1. Ho già vinto 4-1, che ha giocatori... Forse anche loro hanno un po' delle caratteristiche nostre. Penso che un Serra ha giocatori brillanti così, ma anche un Nicola Lai. Sono giocatori forti, veramente. Niente, dobbiamo continuare la nostra strada, che è quella della ricerca di fare calcio. Non vorrei speculare sempre come gli ultimi 20 minuti stasera, però l'ho fatto perché bisognava portare via la posta in palio intera e ci siamo riusciti. Anche perché bisogna avere l'umiltà di riconoscere che dall'altra parte c'era una grande spesa. Infatti l'anello al naso ce lo siamo tolti, perché quando poi hai dei giocatori così, che sono importanti, li conosco, però anche noi ci siamo ritagliati la nostra importanza in questo campionato battendo due squadre come Nuorese e Muravera. Questo ci serve da stimolo per migliorarci e dobbiamo lavorare ogni giorno con la stessa voglia che stiamo facendo adesso. Ministro, complimenti per la vittoria, per il gioco, in bocca al lupo, per il proseguo. Se siete lì a rendere più interessante il campionato... Certo, ci proveremo, ci proveremo, però è giusto che lo dica il campo e adesso bisogna stare con i piedi per terra e divertirci. Grazie ancora. Grazie.